Nel libro Il successo parlo del cavallo ciccio, una metafora stupenda dove c'è Ciro imparato, il grande Ciro nell'audio che racconta benissimo questo cavallo, eccolo là la foto che potete vedere, abbastanza ammaccato, che diventa grazie a una bella cura il cavallo invece ciccio dopo la cura dello zio Mike. Ed ecco quello che voglio fare con te. Perché questo? Perché il successo, pensa un po', molti vedono il successo, la punta dell'iceberg, vedono la prima parte della persona, la macchina, questo o quell'altro, non vedono questo, che si chiama mazzo, ed è il lavoro duro, rischio, fallimenti, persistenza, azione, disciplina, coraggio, dubbi, cambiamento, avversità, sacrificio, preoccupazioni. Questo è la realtà di ogni partita IVA, di ogni imprenditore, di ogni persona che poi ha come merito quello che è il suo risultato. Allora che ti dico? Io ti dico di allenarti, allenati mentre gli altri dormono, studia mentre gli altri escono, resisti mentre gli altri mollano, alla fine viverai quello che gli altri sognano. Ecco il messaggio forte che voglio darti oggi, perché oggi stai facendo appunto i compiti a casa, sapere di più per avere più successo, sapere aude, osa sapere. Abbi il coraggio di conoscere. Vediamo un po', eccoli qua, ci sono tutti quanti collegati, ok. Andiamo avanti, questa è una cosa bellissima, chi non sa, non sa di non sapere. Si chiama effetto Dunning-Kruger, è una cosa spettacolare, perché sono incompetenti e inconsapevoli di esserlo. Anche qualche foto, annunzio, grazie dopo. Perché inconsapevoli di esserlo? Perché tutto parte da un certo McArthur Wheeler, 1995, sulla Gazzetta, la Gazzetta, parliamo nel modo new yorkese, in questo giornale, compare un articolo, che questo Wheeler è stato arrestato perché è andato a fare due rapine in banca, col viso cosparso di limone, perché pensava di essere invisibile. È andato verso le telecamere, si è fatto anche vedere, è stato puntualmente arrestato. Quando l'hanno arrestato, hanno chiesto come mai. Lui era convinto che il limone rendesse invisibile. Pensate un attimo che la cosa più bella è che i due scienziati, appunto Dunning e Kruger, cosa hanno fatto? Ha detto, ma non è possibile. Cioè, questo oltre ad essere stupido è talmente presuntuoso, perché spesso sono appunto così. Bene, cosa hanno fatto? Hanno fatto un'inchiesta nelle varie università, a Harvard, altre ancora, eccetera, e hanno visto che gli studenti più asini erano i più prepotenti, erano i più presuntuosi. Bene, come mai tutto questo? Eccolo qua, perché l'istruzione, la formazione costa, ma se sapessi quanto costa l'ignoranza. E allora dico, amico mio, la vendita in azione, andiamo avanti, andiamo avanti a capire cosa accade dopo. Dobbiamo conoscere lo scenario, conoscere questo scenario per entrarci, ok? Quindi iniziare a capire quali sono le componenti che devo conoscere prima di agire nel mio mercato. Allora, intanto sai che c'è meno richiesta, ma più domande.